Caro Papo Natale, quest'anno ti chiedo poche cose, perché l'anno scorso non mi ha portato niente di quello che ti ho chiesto. Quindi voglio solo un iPhone 6, Barbie 2015, un fidanzatino nuovo... Ciao! Ciao! Che fai? Soscrivete una letterina a Papo Natale. Ma lo sai che non esiste? Ma almeno che Papo Natale esiste? No! E Spongebob? No! E Daryon? No! E Fragmentatore? Mi rai a raggiungermi, semplici e umili, e credendo nei sogni, e che scrive in bigliettini come me! Ciao a tutti! Lui è lui? E lei è Sofì! Ormai è quasi Natale, e per non farvi trovare impreparati abbiamo deciso di fare questo video in vita! Infatti, vi diremo le 10 cosa da non fare a Natale! Pronti? Grazie a tutti Grazie a tutti Un'porta? Ah, carteggine Sì Ma di che non hai cosa fare? Sei qui? Ciao, auguri, gusto per te Grazie Grazie Auguri Grazie, non lo vedi Pronto Sofì? Ho visto che su Whatsapp hai visualizzato il messaggio che hai risposto Le persone non si rendono in giro così Quindi ti lascio, ciao Va bene, ciao Scusa Te lo goero e lo fa' po' viruses Il mio messaggio, un messaggio a catena a Natale, Natale, Natale Buon Natale, Buon Natale, Buon Natale, Buon Natale, Buon Natale, Buon Natale, Buon Natale Sofì Buon Natale, Buon Natale, Buon Natale, Katena, Katena, Katena Sofì Sii? Sii? Ehi che siamo prendendo? Ci siamo chiede auguri E ora mi invio un messaggio, mi invio una cadena, ciao Buon Natale! Grazie a tutti!